benvenuti all'ascolto di rdr la prima radio di servizio sociale in italia la radio che vi informa sul mondo del sociale ascoltate e restate sintonizzati visitate il nostro sito www.rainbowweb.blogspot.it e seguiteci sui nostri canali social facebook instagram e youtube rainbow la tua radio per amica la voce di chi non ha voce ciao a tutti da tilde notizie da rdr la disabilità a scuola da cittadellinfanzia.it la disabilità a scuola il gruppo di classe come risorsa positiva la dottoressa roberta di lernia racconta sono una psicologa che ogni mattina lavora come educatore in scuole primarie e secondarie di primo grado mi occupo nello specifico di assistenza specialistica scolastica per bambini con diverse disabilità l'assistenza specialistica per gli alunni diversamente abili si inquadra nel più generale obiettivo del progetto educativo individualizzato che la scuola e le agenzie territoriali formulano in sinergia con l'obiettivo di promuovere l'integrazione dell'alunno disabile nella sua interezza e specificità potenziando capacità di autonomia personale e comunicativa all'interno all'esterno della scuola non lo ritengo un lavoro ma una missione in quanto sento di essere un'opportunità a disposizione di un bambino ragazzo che per un motivo o per l'altro necessita di me per spiccare il l'autonomia potete immaginare la responsabilità che tale ruolo comporta in quanto attraverso l'intervento socio educativo messo in atto il bambino potrà potenziare le proprie capacità raggiungere gradualmente autonomie personali di base sociali e di comunicazione intenzionale ogni giorno mi rendo conto che un ruolo importante nel favorire l'integrazione del bambino diversamente abile è rappresentata dalla sincera disponibilità del gruppo classe ad accoglierlo non in quanto disabile e per questo è più bisognoso di cure ma come compagno con le proprie caratteristiche così con ognuno di loro ogni giorno modo di constatare l'effetto positivo sulle piccole conquiste quotidiane del bambino diversamente abile determinato dall'avere compagni accoglienti disponibili dal punto di vista emotivo infatti l'essere inserito in una classe accogliente ed inclusiva aumenta la voglia di fare di imitare di emulare quindi di imparare ma non solo è ampiamente dimostrato che i bambini che vivono in classe con compagni disabili elaborano una maggiore maturità sul piano emotivo e cognitivo perciò è necessario mettere in atto percorsi che aiutano i bambini ad accettare il diverso senza paura e senza la missificazione del siamo tutti uguali perché ognuno è unico e ripetibile bene dottoressa roberta di lerne la ringraziamo per il suo ruolo di psicologa clinica per i ragazzi diversamente abili e un ringraziamento anche dalla redazione di rainbow diversamente radio possiamo collegarci tramite il suo sito che è www.remboweb.blogspot.it e attraverso i nostri canali social facebook ed instagram un saluto da rdr e da tilde ciao a tutti